3, 2, 1, Giacomo... Scarb de Tennis e Giacomo Poretti, il giornale di strada più diffuso in Italia, è uno degli attori e autori più noti ed amati. Insieme su TV 2000, da questa sera e fino al 14 dicembre, in un programma in onda tutti i giorni alle 19.30, per raccontare alcuni dei luoghi della povertà e del cuore buono di Milano. Vado a visitare questi luoghi, che sono per davvero molto interessanti, e raccomandabili da visitare, perché Milano straordinariamente bella in questo momento storico, ma come tutte le città nasconde anche dei problemi, ma più che dei problemi e delle sofferenze. Scarb de Tennis, incontri sulla strada, questo è il titolo del programma, è stato presentato presso il refettorio Ambrosiano, uno dei quattro luoghi che farà scoprire e conoscere. Gli altri sono la casa di accoglienza Enzo Iannacci, il rifugio Caritas e la ronda della carità. Non capita tutti i giorni di imbattersi in tanta gente che ha una coscienza così forte e che lavora in una maniera così organizzata per il bene degli altri. Le storie di Scarb che arrivano su TV 2000 per noi sono una cosa sensazionale, nel senso che è la prima volta che ci imbattiamo innanzitutto nel mezzo televisivo, perché Scarb è un giornale di carta e c'è da 20 anni, molti lettori ci conoscono, ma la televisione ci permette di arrivare anche a tante persone che non conoscono il giornale. C'era Giacomo, finalmente uno più piccolo di me!